vi chiedo di prendere un accendino una fiammella un gesto di solidarietà per adriano attivi vittima della sua bontà sono le star della televisione proprio qui è che lo psicologo michele benda è stato visto cadere a terra da quel momento come sappiamo si sono completamente perse le sue tracce sono i campioni degli ascolti senta signor norton lei è in pericolo noi abbiamo il dovere di mettere sotto la nostra protezione no grazie guardi che lei è davvero un pericolo sono i preferiti dal pubblico queste sparizioni fino adesso hanno prodotto soltanto audience soldi a investimenti pubblicitari adesso qualcuno vuole renderli i protagonisti del loro ultimo spettacolo il sole è scurtato e il mio ragazzo era lì e di ogni di sì di sì la banda suona per noi la banda suona per voi la 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 la… la 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 la… la 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 la… a Grazie a tutti. Grazie a tutti.